Hanno nuovi problemi vecchi per il Comune di Lacomeno che si rivede come sempre nella problematica della raccolta di rifiuti, nell'emore anche di un cambiamento di affidamento ad una nuova ditta. Carmine Monti, che cosa sta succedendo? Ma guarda, noi già in Consiglio Comunale, come tu ben sai, abbiamo un po' puntato il dito su questa cosa. Finalmente siamo arrivati ad una gara, sembra che sono in dirittura d'arrivo per l'apertura delle buste e per la nuova assegnazione. Non so quali sono le ditte che sono state ammesse alle prove sul posto per la nuova gara e per la nuova gestione. Certo, usciamo come Paese con le ossa rotte perché è da tempo che la raccolta non è più all'altezza di una volta. Certo, sia i cittadini che i commercianti stanno patendo questa situazione, anche perché in un Paese turistico, in un Paese che vuole essere all'avanguardia, penso che la prima cosa sia il servizio di raccolta. Anche perché, come abbiamo già detto anche in Consiglio Comunale, sono con l'amministrazione di Giacomino è la seconda volta che si aumenta il ruolo della spazzatura e questo ruolo della spazzatura che viene aumentato e che cadrà naturalmente sugli utenti e quindi sui cittadini. Che poi, tra l'altro, dobbiamo anche dire che gran parte del Paese è fermo perché noi abbiamo tutta la zona che fa parte del fango, la zona rossa, tutte le aree che sono state oggette e colpite dal terremoto dove di fatto non c'è una produzione di immondizie, non c'è raccolta. Veniamo però alla parte centrale, il corso, la piazza Santa Restituta. I cittadini continuano anche a sottolinearci con foto e documentazioni di immondizia lasciata per le strade alla merce di tutti e di tutto. Ma purtroppo se non si fa una politica rigorosa anche di controllo come la feci io quando ero sindaco istituendo un gruppo di persone che appunto erano adibite a controllare lo sversamento fuori orari e quindi a erogare sanzioni, io mi ricordo che nel giro di 20 giorni facemmo più di 100 multe però siamo riusciti ad arrivare a un 65% di raccolta differenziata, delle cifre che adesso non sono venivamente pensabili e ad uno sversamento non più fuori dall'orario di conferimento. Ma la cosa seria era quella di andare a sovvertire completamente la tipologia di raccolta. Io penso che bisognava assolutamente partire con le centraline. Non è più possibile nel 2019 continuare con lo sversamento dei rifiuti sul terreno perché lo sversamento dei rifiuti sul terreno è sinonimo di inciviltà.